Ciao creatura, guarda ho trovato il catalogo dell'idea di Halloween che è offerte valide dal 22.10 al 28.10 2018 e ti vado a vederlo insieme a me? Chi è? Allora guardiamo, dolcetto scherzetto, cioccolatini al latte, 1,49 euro, che alla fine il packaging è più bello, cioè saranno tipo come uvetti di cioccolato normali, sono a forma di occhio quindi sono belli. Poi abbiamo una torta alla panna e cioccolato a 6,99 euro, devo dirti la verità, l'ho vista già in negozio, non è che sia così bello. Poi Halloween nuggets, nuggets di petto di pollo, 2,99 euro, sì dai carino è una delle forme di Halloween, pipistrello, zucca, fantasmino e pasta credo. Tieni sediti qua che mettiamo il Teplian anche un po' sopra le tue gambe, abbiamo pizza Halloween, non riesco a leggere. Farsita con salsa al pomodoro, formaggio, cheddar, fustel, affamicati e pomodori, 1,49 euro, questa l'ho già mangiata, praticamente c'è sulla salsa al pomodoro hanno messo un po' di colorante alimentare nero e quindi l'hanno fatta questa cosa di Halloween. Senti il rumore strano, Sam sta mangiando i suoi croccantini, croccantini, croccantini. Halloween pasta tricolore a 0,99 euro, se la trovo la compro, pasta tricolore di semola di grano duro. L'avevo presa l'anno scorso, è molto carina, ha tutte forme di Halloween. Wow, zucca grigliata, ottima come contorno per preparare gustosi condimenti, 1,99 euro, questa fa voglia. Poi c'è una pizza nuova che gli altri anni non l'avevo mai vista, che c'è scritto farcita con crema di zucca e pancetta affumicata, questa non avevo capito che era così, la dobbiamo apprendere. Poi abbiamo figure di purea di patate a 0,99 euro, sono le, praticamente, tipo, come si chiamano, le crocchette di patate, con forme di zucche di Halloween e fantasmini. Poi qui abbiamo degli snack di patate salati al gusto di formaggio, i bacon, 0,99 euro, poi i popcorn caramellati, 1,99 euro, mi piace il packaging, però quelli caramellati non mi piacciono tantissimo, preferisco quelli al burro. Bevanda Halloween, per veri vampiri, succo d'uva rossa, mela grana e rips nero, 1,49 euro, bella questa. Poi qui abbiamo snack base di patate al gusto di panna acida, 0,99, carini, coi ragni e le, mi prevengono tutte in inglese, le ragnatele. Wow, questi fanno voglia, questi fanno voglia, rachi di impastella, 0,99, la confezione, questi fanno voglia. Poi qui abbiamo i tovagliolini di Halloween a 1,19 euro, beh, insomma, potrebbero fare meglio. Poi abbiamo una zucca ornamentale di Halloween, zucca vera da decorare in stile Halloween, non è mangiabile, a 1,19 euro. Poi qui abbiamo il rotolo casa Halloween, a 1,39 euro, che è molto bello se lo trovo, cioè se le decorazioni lo prendo. Picchiari di carta Halloween e ci sono solo arancione o viola, a 1,19 euro. E poi i piatti di carta Halloween, che sono 1,49 euro, che sono da abbinare ai tovaglioli. Poi qui troviamo, cosa c'è? Allora, dal 22, quindi ottobre, da lunedì, anche il nostro reparto Bake Off festeggia Halloween con una ciambella da paura. Halloween donut a 1,49 centesimi, uno stormo di nere scaglie cioccolatose in una palude di gustosissima glassa all'arancia per 54 grammi di pura malignità, la voglio. Questa la donna la prenderà assolutamente. Biscotti, commenta anche tu se vuoi la ciambella di Halloween. Biscotti colorati, a 0,99, di pasta frolla con cioccolato, secondo me hanno tipo gli smarties, quel cos'è lì. Poi figure di Halloween, di cioccolato al latte, carini però, da 1,29 euro, li fanno anche in versione tipo di Natale con i papponi, 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 lecca, lecca al cioccolato. 1,69 euro, carini, è cioccolato colorato e con le forme di Halloween. Poi abbiamo i biscotti con cioccolato al latte, carini anche questi, a 0,99. Poi figure di Halloween, di cioccolato in rete, 1,19 euro, carini. Poi abbiamo i kinder cioccolato happy, a forma di zucca o a forma di gattini neri, a 1,69 euro. Sono di kinder cioccolato normale, solo che hanno la confezione, forse anche la forma, la confezione, sì, diciamo, di Halloween. Poi abbiamo i yoghurt Halloween, 0,49 euro. E alla fine li avevo trovati, c'erano anche l'anno scorso, comunque questi, le palline sono al cioccolato. Sono solo colorate, diverse, ma sono tutti uguali, gusti purtroppo. Dolcetti al cioccolato, questi sono molto carini, soprattutto qua le dita mozzate, di cioccolato, 2,49 euro. E queste sono denti, sono denti finti, sì, denti, dita, zucchi e bare. Le dita prenderei perché dalla foto sono belle, poi non so. Poi abbiamo una zucca di plastica ripiena con dolciumi a 3,49 euro, caramelle gommose al gusto di frutta a 3,49 euro, un bel sacchettone da 1200 grammi. Poi abbiamo Halloween marshmallow dolcetti spumosi a 1,29 euro, sembrano ma quelli del Tiger. Poi abbiamo le caramelle gommose di Halloween in diversi gusti e formati, sì, 100 grammi alla confezione, 3,49 euro. Ci sono ogni anno queste qui, caramelle gommose di Halloween, 3,49 euro. Abbiamo i trolli con queste forme tipo da Frankenstein o altri mostri, teschi, cose così. E poi abbiamo gli insetti schifosi, anzi i ragni, caramelle gommose da rantola, 3,49 euro sempre. E sono tutti ragni schifosi che non mangerei neanche per scherzo, ma a me fanno schifo, cioè non riuscire a mangiare. Poi abbiamo sempre della marca Trolli, Dracula, le dentiere, quindi caramelle gommose Dracula 0,99. E sono le dentiere di Dracula, praticamente. Poi Magic Horror, caramelle gommose, sempre la marca Trolli. Non so quale forme, che forme siano, sempre da tema lungo comunque. Questi le prenderei tra ore e 49. E questi, mancabili, ci sono ogni anno. Caramelle gommose con ripieno di frutta, che sono a forma di occhio. Poi quando vai a mangiare all'interno c'è come una cosa fracolosa, un liquido come se fosse sangue. Sono molto belli, 0,99 euro. Passiamo al reparto decorazioni, cioè vestiti. Allora abbiamo il cerchietto per Halloween da bambina a 2,99 euro. E la mascherina di Halloween per bambini a 1,99 euro. Ancora con queste distinzioni, cioè se un bambino vuole le orecchie, vabbè, la sai già come la penso. Abbiamo le decorazioni in filtro per Halloween a 3,99 euro. Non ho idea di dove si potrebbero mettere, però mi piacciono. Scritto prodotto tv, si vede che l'hanno mostrato in tv. Poi qui hanno costume di Halloween da bambino, ancora con queste distinzioni, 6,99 euro. E costume di Halloween da bambina, da bambina, 6,99 euro. Poi abbiamo il costume di Halloween da uomo, 9,99 euro. E il costume di Halloween da bambina, che è praticamente la versione, cioè praticamente la versione da bambina e da donna sono uguali in miniatura, no? E poi abbiamo il costume di Halloween da bambina, 5,99 euro. E il costume di Halloween da bambina, a 5,99 euro. Queste bellissime con l'hanno, che io queste me le ho comprate a 2,99 euro. Con l'hanno o parigine da donna per Halloween, 40 denari. Io ho queste che si illuminano al buio, non so se sono le stesse, però carine. Queste con i teschi tipo scream. Poi abbiamo i collano o leggings da bambina per Halloween, a 2,99 euro. Sempre 40 denari. Speriamo che ci siano tutte queste cose che stanno facendo vedere. Qui abbiamo maglia da bambino, glue in the dark, 2 pezzi, 5,99 euro. Maglia da bambina, glue in the dark, 2 pezzi, 5,99 euro. Pigiamo da bambina, glue in the dark, belli pigiami, glue in the dark, lo voglio anche io, 5,99 euro. Sì, anche da bambino. Luci decorative per Halloween, 4,99 euro. Lanterna LED per Halloween, a 7,99 euro. Molto belle, questa molto bella. Poi abbiamo il proiettore a LED per Halloween, 14,99 euro. Per chi proprio, se c'è bisogno a casa, me lo sarete comprata. Poi abbiamo accessori per Halloween, 2,99 euro. Se non sono da bambina, mi vorrei usare per tipo l'inverno, perché quelli che avevo mi si sono rotti. 2,99 euro, accessori per Halloween. Poi abbiamo le matite o colori per il viso, 4,99 euro. Poi abbiamo cappello di Halloween per adulti, 1,99 euro. Uno più brutto dell'altro, non sto scherzando. Parrucca di Halloween per adulti, a 3,99 euro. Fintissime. Vabbè, 3,99 euro, cosa vuoi pretendere? Maschera di Halloween per adulti, 2,99 euro. Questa è bella. Anche questa, tipo Joy Jorison, è bella. Maschera di Halloween per adulti, 4,99 euro. Sì, questa un po', ma le altre non mi piacciono tanto. Poi, candela per Halloween, 1,99 euro. Se non sbaglio, questa c'era anche l'anno scorso. Poi, decorazioni gonfiabili per Halloween, 1,99 euro. Si dà i carini, questo qui. Carina. Si dà. Vabbiamo prima di vedere. Sono anche grandi. Sì. Poi, basta, finisca. Le cose di Halloween sono finite. E perché poi ci sono quelle terraram americane che farò in un video a parte. Vediamo se ci sono altre cose di Halloween. Non credo, però. Non si sa mai. Nella vita. Vabbè, manca poco. Qui abbiamo le cose da uomo vestiti. Le cose da ginnastica. Abbiamo i pigiami. Ecco qua, qua c'è qualcosa di Halloween. Tipo dei fiori con i vasetti. Tema Halloween. E vabbè, gli uomini qua per il tuo novembre. E basta poi. Ok. Spero che questo video ti sia piaciuto. Fammi sapere cosa ti è piaciuto di più, cosa comprerai, cosa vorresti comprare. Ho già comprato dell'Ital qui di Halloween. E buon relax. Ciao, creatore. Ciao. Ciao. Ciao.